Un saluto a tutti dall'Ito Turistico qui a Capomiseno, come vedete la bella montagna di Miseno dietro e qua davanti la nostra bellissima Lusienna che ieri ha incantato tutti nel film I Fratelli dei Filippo. Complimenti a te e a tutta la truppa. Colgo l'occasione per ringraziare tutti coloro che mi hanno scritto perché siete stati tantissimi e questo non ha fatto che rendermi felice. Un ringraziamento particolare va al sindaco con i suoi ringraziamenti inaspettati e volevo davvero ringraziare tutti perché mi sostenete e questo mi spinge ad essere sempre di più convinta e a credere in quello che faccio. Lusienno, noi nel film che abbiamo visto siamo rimasti incantati anche dalle scene, dalle case. Dove sono state girate quelle scene? Sono state girate tra Napoli, Puglia, insomma un po' dappertutto ma le scene in cui sono stata presente io erano situate a Napoli ed erano case che in realtà realmente erano addobbate così quindi è stato molto suggestivo e molto particolare. Allora domani è il primo dell'anno, questa sera c'è il gran finale, dobbiamo fare gli auguri. Colgo l'occasione per augurarvi a tutti un felice anno nuovo sperando che sia migliore di quello passato. Indosso anche questo bellissimo copricapo che porto con me per strappare un sorriso un po' a tutti. Auguri, Lusienno. Auguri e felice anno nuovo. E in bocca al luco. Crepi, merda a merda. Grazie. Grazie a tutti.